Camer, ristrutturazioni di interni, via Aldomoro 38, Sondrio. Si chiama Val Chiavenna, una valle sicura, il progetto coordinato dalla comunità montana assieme al consorzio turistico della Val Chiavenna, per andare incontro alla popolazione. Partito nei giorni scorsi, prevede la distribuzione delle mascherine, una per ogni componente del nucleo familiare, di un kit e di una brochure, contenenti delle semplici regole da rispettare. Dicta chiari ed espliciti come lavare accuratamente le mani, indossare e posizionare in maniera corretta il dispositivo di protezione individuale, disinfettare e arreggiare l'ambiente, mantenere la distanza di almeno un metro. Vuole essere un modo per dire al nostro cittadino Val Chiavennasco che bisogna ripartire, ma con responsabilità, con testa. E siamo sicuri che questo avverrà. Le regole sono regole semplici. Il mantenimento della distanza, l'uso della mascherina, l'uso dell'igiene personale, quindi il lavarsi spesso le mani. Regole che vengono spiegate attraverso una brochure che è stata distribuita in questi giorni. Queste mascherine sono state acquistate grazie alle donazioni ricevute da V3V, un'associazione volontari, 20.000 più o meno, 5.000 dalla comunità montana. E sono stati convocati le varie associazioni, vari gruppi della zona per decidere come distribuire queste mascherine. Obiettivo? La ricerca della normalità perduta in questo periodo critico che ha messo a dura prova chiunque. Un'iniziativa ad ampissimo raggio, in totale spartite 24.600 mascherine e 11.100 brochure di spiegazione. Un perfetto gioco di squadra tra i vari soggetti della comunità Chiavennasca. Riteniamo questo un'importante azione coordinata dalla comunità montana assieme a una serie di soggetti e in particolare assieme a un gruppo straordinario di volontari che si è reso disponibile nella distribuzione. Il desiderio e la voglia di rilanciare una Valle Unita, pronta ad accogliere nuovamente i turisti. Parola d'ordine per questa fase 2 è responsabilità. Continuare ad agire con accortezza, rispettando tutte le misure adottate dalle autorità per limitare al massimo il contagio, l'unica linea da seguire. Da sempre la Val Chiavenna è ritenuta una comunità forte, operosa e determinata. Anche in questa lunga battaglia non vuole essere da meno.